Cos'è per me la ricerca scientifica? Innanzitutto è il mio lavoro, ma credo di essere una persona molto fortunata perché è un lavoro molto particolare. Intendiamoci, la ricerca scientifica non è fatta solamente di grandi scoperte, è fatta di tantissimo lavoro, anche ripetitivo, anche di tantissime delusioni, perché la maggior parte degli esperimenti normalmente non funziona. Però quando accade, quando uno si rende conto, facendo un esperimento o analizzando i propri dati, che sta scoprendo qualche cosa, è una sensazione così esaltante che ripaga di tutto il lavoro, di tutte anche le delusioni, eccetera. La ricerca scientifica poi è particolarmente importante per la società umana in quanto grazie alla ricerca scientifica non solamente soddisfiamo la nostra naturale curiosità di sapere come funzionano le cose, ma possiamo anche sviluppare processi e tecnologie che aiutano l'uomo a vivere meglio.